Da tutta la vita, Uovo e la sua famiglia adottiva incutono paura nei cuori dei loro vicini di sopra. I Boxtroll sono mostri! E poiché sono un po'... beh, diversi. Passano allegramente i loro giorni sottoterra e le loro notti, provistando le strade, al riparo da sguardi umani. Scappate! Ora, acchiapperò fino all'ultimo Boxtroll, il che mi renderà l'uomo più rispettato della città! Che le loro vite sono minacciate... Prendete quei Boxtroll! Ci trascinano via e non facciamo niente. No! Di qua! Cosa? Troveranno aiuto... Dove meno se lo aspettano. Se vuoi che ti aiuti, dobbiamo fare esattamente come dico io. Per prima cosa, via la scatola! Basta! Andiamo, uovo. Arrivano i disinfestatori della giustizia! Possiamo ribellarci! Alonso i disinfestatori della giustizia! Voi! 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 Ma hai visto uno reagire così? Andiamo! Boxtrolls, le scatole magiche. È un piacere conoscerla.